Martin Derun, quanta soddisfazione, anche perché quella contro il Benevento non era una partita semplice, tutto da perdere per l'Atalanta. Ho tanta soddisfazione, perché oggi era molto difficile, loro difendono con 11, molto molto basso, ma abbiamo giocato bene, con pazienza, perché devi avere pazienza contro una squadra che gioca così. Sì, abbiamo provato per cercare un gol, ho trovato con Brian, Brian segna tanto adesso, siamo molto contenti con lui, ma con tutta la squadra, perché abbiamo giocato bene, siamo contenti e possiamo continuare così. Ecco, la classifica dice che l'Atalanta si è avvicinata a quello che è il gruppo di testa e la classifica dice un punto dall'Europa League, comunque il campionato è ancora lungo, però questa Atalanta impegnata su più fronti dimostra di poterci stare tranquillamente in Europa League, in campionato, poi adesso arriverà anche la Coppa Italia. Sì, il giovedì era forse la sera più bella, come si dice, until now, sì, sì, perché sono qualificata con la squadra. In febbraio siamo ancora, oggi era importante perché contro Spall abbiamo perso punti e oggi contro Benevento non è facile. Sì, siamo avvicinati un po', vogliamo puntare sul settimo posto perché un altro anno in Europa sarebbe molto bello. Sì, guardiamo partita o vediamo partita per partita, adesso c'è Torino, dobbiamo vincere anche in trasferta perché abbiamo ottenuto pochi punti in trasferta.